Allora questo video è pensato per due tipologie di persone, ci sono quelle che vogliono avvicinarsi alla fotogrammetria da drone e alla programmazione di missione di volo automatiche per la fotogrammetria da drone, per un'acquisizione fotogrammetrica da drone, e poi ci sono magari quelle che vogliono capire come funziona nello specifico software UGCS, software di mission planning per fare proprio questo, per fare programmazione di missione automatiche per acquisizione fotogrammetrica. In questo video, che probabilmente sarà una prima parte di un video un po' più lungo, perché i tempi sono un po' tirati e io tendo a dilungarmi, voglio provare a portarti all'interno di UGCS e farti vedere come funziona questo software con l'obiettivo di creare una missione di volo fotogrammetrico, di acquisizione fotogrammetrica per un drone in volo. Allora ti parlerò un po' di cose e quindi proprio perché magari tra di voi, se sei tra quelli che si sta avvicinando all'acquisizione fotogrammetrica, potrebbero esserci delle cose che ancora ti sono sconosciute e magari proviamo a approfondirle, è per questo che questo video non finirà qui e ce ne saranno delle altre per quanto riguarda l'acquisizione fotogrammetrica. Allora l'area di lavoro di UGCS è questa, per creare una nuova rotta all'interno della missione, quindi missione demo, che ho chiamato io demo, posso chiamarla come voglio, prova, per creare una nuova rotta vado qua col tasto più, add new route, aggiungo una nuova rotta e questa rotta la chiamo fotogrammetria. Aggiungo, next, scusa, scelgo il vettore, quindi devo scegliere un profilo di veicolo tra quelli che mi mette a disposizione il software, ce ne sono tanti e a seconda del momento in cui guardi questo video, potrebbero essercene anche nuovi aggiunti, io utilizzo il DGA Matrice 300 ATK che è il drone che sto utilizzando maggiormente, potrei utilizzare il Phantom 4 ATK, insomma tutti quelli che sono in questo elenco. Nel momento in cui ci clicchi sopra il software si porta dentro tutte le caratteristiche fisiche legate a questo profilo che sono definite nel menu, non ci entriamo in questo video, e che gli permettono di tenere conto di diversi aspetti. Next, in questa finestra imposti una serie di opzioni per quanto riguarda il comportamento del drone e eventuali limiti al volo del drone, oltre che, ad esempio, nella prima opzione che hai qui in alto a sinistra, la possibilità di dire al software che il drone decollerà da un punto che è o più basso o più alto rispetto al modello digitale del terreno che il software ha al suo interno. Il software ha dentro un modello digitale del terreno ed una delle cose più interessanti, secondo me più utili, e fatta veramente bene da tempo in memore di UGCS, è quella che di default fa missioni di volo automatiche e in modalità Terrain Follow, cioè permettendo al drone in volo di seguire l'andamento del terreno. E questo viene fatto perché al suo interno c'è un modello digitale del terreno, oppure puoi caricare un modello digitale più definito, più customizzato, che permette di dare sempre un'informazione al drone sul suo comportamento altimetrico durante l'esecuzione della missione. Se il tuo drone ha un punto di decollo sul tetto di un palazzo o in una zona ipogea nel centro di una buca, puoi dargli questa informazione. Io questo non l'ho mai fatto, per la mappatura di terreni in quota tutto sommato medio alta, 80-100 metri, ma anche 50 metri, e queste informazioni, a meno che non siano valori molto alti, non spostano molto l'acquisizione. Però capisco che se decolli da un tetto di un edificio che è abbastanza alto e la tua necessità è fare un'acquisizione un po' spinta in termini di distanza tra il drone e il terreno, allora qua ha molto senso scriverci questa cosa. Scegli l'altezza di ritorno a casa, quindi potrebbe essere 120-100, insomma quella che vuoi che sia l'altezza a cui il drone va, nel momento in cui si attiva il comando di ritorno a casa. Non ho detto che succeda il ritorno a casa, queste poi dipenderanno dalle impostazioni che sceglierei di fare tu. Per me il ritorno a casa non c'è mai, io non faccio mai il ritorno a casa e lo prendo il controllo, ma perché è una mia scelta personale. Maximum Altitude Above Ground, massima altitudine rispetto sul terreno. Qui puoi mettere il valore che vuoi in relazione a quelli che sono i parametri del drone, a quelli che sono le limiti che vuoi impostare. Questo non vuol dire che mettendo ad esempio i 200 metri stiamo infragendo nelle regole ENAC o EASA, stiamo dicendo che dentro UGCS il drone potrà nella programmazione muoversi liberamente senza che UGCS mi dia degli errori fino a che arriverà a una quota massima di 200 metri rispetto al terreno, quindi non è una quota assoluta. Puoi mettere o togliere la spunta, se tenere in conto oppure no, di zone aeroportuali, le aerodrome zone o delle zone no-fly zone customizzate e poi in caso di perdita della connessione, del collegamento tra drone e radiocomando puoi decidere quale sia il comportamento del drone, che avrà il drone, se tornare a casa o se continuare. Questa scelta è una scelta molto personale. Io lascio continuare perché mi è capitato una volta senza che ci fosse la perdita di contatto visivo che per delle interferenze il drone fosse disconnesso completamente dal radiocomando la missione era già abbastanza avanzata, era una cosa abbastanza importante, le batterie mie erano finite quindi il drone ha continuato la missione, io l'avevo vista e poi è ritornato. In questo caso ti consiglio, se metti questa opzione e se ci sono delle possibilità di perdita di contatto crea un waypoint finale vicino a te, in modo tale che il drone quando ha finito la missione la finisce vicino a te quindi puoi riprendere il controllo perché magari se è più vicino è più possibile che il contatto sia ristabilito. Detto questo entriamo dentro UGCS e dentro UGCS, anche se c'eravamo già prima, il fotogrammetri tool lo trovi qua c'è questo pulsante con questo serpentone e questa P verde in basso a destra che recita fotogrammetri tool ci vado sopra, ci sono una serie di opzioni qui a sinistra ma la primissima cosa che devi fare è selezionare un'area fotogrammetri tool si basa sulla copertura questo fotogrammetri tool perché poi in realtà c'è un altro fotogrammetri tool che è questo, che c'è di nuovo questa P verde in basso a destra la P verde sta per fotogrammetria ed è il corridor mapping quindi è una mappatura su un elemento lineare nel nostro caso, il fotogrammetri tool, nel caso di questo video, il fotogrammetri tool è una mappatura di un'area quindi quello che si aspetta al software è di ricevere il perimetro di un'area come fai a disegnarlo? Vai sulla mappa, tasto sinistro trascini, tasto destro ruoti e fai doppio clic sui punti che vuoi che siano i vertici di un poligono che delimita l'area da mappare io ho disegnato un rettangolo, vedi che ci sono i quattro vertici principali lui già sta facendo dei calcoli ma poi adesso queste cose le vediamo nel dettaglio e mi dà anche dei warning ma queste cose non le guardiamo lui ha disegnato un rettangolo dove ci sono i vertici che hanno una stanghetta rossa diciamo così, una parte verticale rossa e poi per ciascun lato c'è un punto mediano che ha un elemento verticale blu se l'area non è quella che vuoi effettivamente mappare perché magari è più grande, perché magari è più piccola, perché la vuoi modificare basta che clicchi e trascini su uno di questi vertici e cliccando sulla base ti compaiono quattro frecce che ti permettono di spostare il punto nella mappa se l'area non è, in questo caso non è se non va bene una figura, un quadrilatero per coprire l'area che ti interessa ma hai bisogno di più lati allora invece di ridisegnare l'area puoi utilizzare i punti mediani per ciascun segmento per creare dei nuovi vertici primari cliccandoci sopra e trascinandolo nel punto in cui vuoi creare un nuovo vertice come vedi ci sono due segmenti blu che sono due vertici scusa, due segmenti nuovi che vengono creati a partire da un unico segmento quando rilascio nel punto che mi interessa il vertice, scusa, il punto che prima era un punto mediano diventa un vertice primario e a sua volta vengono creati due nuovi punti mediani in corrispondenza dei due nuovi lati che si sono creati per questo motivo puoi andare avanti quanto vuoi cioè puoi fare le figure anche in seconda battuta il più complesso possibile in relazione alle tue esigenze questa è la prima cosa, definire la superficie che vuoi mappare la seconda cosa da fare che probabilmente questa potrebbe essere la tua situazione di default quando crei una prima missione fotogrammetrica è definire la camera che tipo di sensore stai utilizzando o vuoi utilizzare ora stiamo parlando di fotogrammetria quindi stiamo parlando di un qualcosa che scatta stiamo parlando di elaborazioni di immagini e quindi stiamo parlando di un'acquisizione che ha come scopo lo scatto di fotografie quindi il sensore che si utilizza è tipicamente un sensore fotografico se questo parametro, questa opzione che è qui dentro camera è vuoto e il colore arancione in un GCS vuol dire campo mancante allora lui ti dà un warning no, ti dà un errore scritto bianco su rosso e ti dice guarda dimmi qual è la camera che stai utilizzando perché il campo è vuoto, altrimenti non stiamo parlando di niente stiamo per programmare un'acquisizione fotogrammetrica ma non so che camera utilizzare allora nel menu a tendina in relazione al profilo del drone che hai selezionato in partenza hai una serie di camere non è detto che tu abbia una serie di camere ad esempio se utilizzi il Phantom 4 RTK hai una sola camera che è quella associata al Phantom 4 RTK nel caso del matrice 300 ne hai diverse questo è possibile questo cambiamento, questa diversità è possibile perché UGCS in relazione al veicolo che hai selezionato sa già quali sono le camere che possono che sono compatibili con quel veicolo e te le propone nel menu a tendina quindi ho selezionato quella che utilizza normalmente DJI Zenmuse P1 col 35 mm e a questo punto abbiamo fatto due dei tre step principali il primo la definizione dell'area il secondo la definizione della camera il terzo poi non è che c'è un ordine primario tra uno e l'altro il terzo è la definizione della risoluzione a terra per le immagini del dataset e qua poi chiudiamo questo video gli altri riguarderanno i vari parametri Ground Resolution GSD GSD sta per Ground Sampling Distance in fotogrammetria è un parametro fondamentale è quello che mi dice quanto in dettaglio e semplificando quanto sono dettagliate le immagini scattate da una macchina fotografica è un parametro che dipende da caratteristiche fisiche del sensore dall'ottica dalla lunghezza focale reale dell'ottica e dalla distanza di presa cioè da quanto sono scattate da quanto distante o vicino sono scattate le immagini per il Ground Resolution per il GSD c'è un box a parte dove l'unità di misura è centimetri su pixel questo è un valore che più si abbassa più mi dà indicazioni di immagini dettagliate c'è un box a parte dove a seconda del dato che io voglio avere in output il software aggiornerà l'emissione di volo UGCS in termini fotogrammetrici è un software che dà priorità al GSD perché dice stai facendo una programmazione per missione di volo fotogrammetrica allora dimmi qual è il tuo GSD perché quello è l'obiettivo dell'acquisizione sulla base di quello sulla base della velocità sulla base dell'altimetria sulla base di tutto quanto io ti programmo ti propongo delle rotte però tu dimmi qual è il punto di partenza se aumento questo valore GSD lo porto da 1 a 1,5 a 2 quello che succede è che a mano a mano le traiettorie per la stessa area si distanziano dal terreno perché non essendo cambiato niente da un punto di vista fisico cioè la camera è rimasta la stessa sempre la DJI Zenmuse P1 35mm l'unica cosa che può cambiare perché sia verificato questo valore di 2 cm per pixel è la distanza di scatole delle fotografie per cui 2 cm per pixel le fotografie sono scattate in questo caso a una distanza di 160 metri da terra se vado a 0,5 ad esempio vedrai che queste traiettorie sono molto più schiacciate perché per avere un GSD piccolo devo andare molto vicino e scattare delle fotografie con una maggiore ricchezza di dettaglio questi sono i parametri principali della missione fotogrammetrica quelli su cui si basano le missioni fotogrammetriche dentro un GCS quindi scelta della camera scelta dell'area scelta del GSD c'è un'altra cosa fondamentale importantissima la vediamo nel prossimo video sulle missioni fotogrammetriche che riguarda le sovrapposizioni non si può fare fotogrammetria nei software moderni ma neanche con le vecchie metodi con le tecniche tradizionali se le immagini non si sovrappongono e allora sulla base di quello e sulla base della velocità di crociera ci sono un'altra serie di opzioni che è bene tenere in conto quando si fa una programmazione di questo tipo ma lo vediamo nel prossimo video su questa serie mini dentro un GCS per la fotogrammetria se pensi che sia utile a qualcun altro glielo puoi condividere 3dmetrica.it è il posto dove mi trovo online telegram.me slash 3dmetrica patreon.com slash 3dmetrica per supportarmi se hai dei dubbi su GCS me le puoi scrivere a telegram at paolo coradighini in modo tale che mi dai degli spunti per fare delle cose specifiche e provare a risolvere dei problemi concreti nel caso in cui tu abbia dei problemi concreti con UGCS per il resto ti ringrazio per aver visto questo video ti do l'appuntamento al prossimo ti saluto fortissimo ciao